Ho visto che il marito ha solo un cerchio di energia, quindi volendo possiamo optare di uccidere prima il marito, perché vedo che lei quasi si calma Si calma quando? Non penso che sia il caso di dire che si calma perché sta incivata, non vedi come sta? Sta incivata veramente questa, che cazzo ho fatto? Ah, ci dice Giovanni, il marito è notato a poca vita Si, Giovanni Allora, Simo ci dice, quindi se metto punto esclamativo bambuni, affari di bambu tuoi? Ah no, ah ho capito, tu dici punti, punti fedeltà, fammi sapere se parli dei punti fedeltà Faccia vedere Simo, allora, infatti su Giovanni, eh si, cioè non intende che di uccidere il mio marito secondo Giovanni Madonna Invece Zerri ci dice, usa lo strumento che dà fuoco sulla scimmia marito Bravo, bravo, bravissimo Zerri ci dice, usa lo strumento che dà fuoco sulla scimmia marito Ah, ci dice Simone, secondo me non sono cascati, ecco perché sono cascati Comunque siamo, le dice, punti fedeltà, fammi Madonna, allora i punti fedeltà non li ho inseriti ancora, se sono sincero Perché all'inizio ho avuto un po' problema con lo streamlabs tipo uno di particolare Robbe tecniche diciamo Madonna, madonna Ma può essere il consiglio di Jerry? Però Jerry, se utilizzo la luce per distrarre il marito, lei non si distrae e mi attacca Ma c'è questi due stasera, non potranno fare vatter roba insieme invece di venire qua a rompere le valle Dai scimmie Funti scimmia Funti scimmia Come fai ora? Oh merda Madonna Ma perché non c'è anche la vita segnata dal marito, non capisco Eh, la vita del marito è piccola, cioè sembra piccola in realtà Ma lui è ancora più incazzato di lui, raga No, ma il marito è più incazzato, cioè tipo ha detto hai sgozzato mia moglie, così Cioè quella già era bella, ha detto il marito ora me l'hai fatto ancora più brutta Madonna Ma ovviamente Jerry si preoccupa e dice cazzo di un calore, mi preoccupo Eh, mu, mu succede qualcosa al personaggio di Enzo raga che sta in calore Raga ma ha pochissime vite Eh, infatti domani te lo diceva Ha pochissime vite Ma lo spacco Dai, 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 lei, nooo Dai, vuoi preparare? Raga Era uno scroto Eh, ma c'è la moglie dietro che ora ha pezzo Mo la spacco la moglie Guarda lì che salti che fa Sì, sì, guarda qua Mi ha acceso il compagno, cazzo E' ancora più nervosa, poraccia, muoia acceso il compagno Ah, no Ma per cazzo non riesci scappare? Sì Eh, direi Eh, stavo perdendo la guardia in realtà Vai, 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 perla No, ho sbagliato Mi lancio gli shuriken, ragazzi Vai, 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 vai Tu, 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 tu A te L'ho bloccata, l'ho bloccata Dai che ce la fai Vai, vai Ma come cazzo hai fatto? Merdina No, raga No, mi salta Vabbè, ma cosa fa? Non la vincola, vincola Vai, vai, vai Oddio Vieni, dai, lanciati Ma quelle che lanciano le bombette Allora, adesso, sinistra, sinistra Un, due, tre Vai con l'uno, due, tre Oh, cazzo, cazzo, cazzo Oh, merda Non so più del tuo voletto con la fine Se mi... Se mi... Se mi mette lo status terrore, son morto Allora, adesso, sinistra Sinistra Allora, il super sex Sia scimmia decapitata Eh, beh, è un botto stupenda Daglie che ce l'ha fatta C'è, ma io ti uccido altre tre, quattro volte Forse non ti è chiaro Non ti può ricompare, ragazzi Vieni Oddio, che brutta scena Vieni, ciao, vermiciato Pensare di vermiciattolo così Mi fa troppo stimo Madonna, se ti spacco ancora di botte, porca merda Checco Hai visto? Dove uccidere anche l'insetto Lo sapevo che era qualche cosa particolare Sì, me l'hai detto per amore Uh, io Non ti ricordo Ricordo scimmia senza testa E ricordo di una battaglia con un... Devi leggere quella di Checco E ricordo di una battaglia con un formidabile nemico Che induce nella mente del lupo Prega ad un isolo dello scultore E affronta i ricordi di la battaglia Ravamentare per niente la tua forza d'attacco La scimmia guardiana senza testa Era enorme bestia Affrittata al potere degli immortali Bella Ciao scimmia senza testa Checco ha detto E' un avvio di domani mi aspetto il figlio di queste due scimmie che ha resuscitato i genitori Ma può essere Guarda C'è incredibile raga Lo uccisa due volte Poi... Adesso l'ho riuscisa due volte E' ucciso anche il marito Quindi è incredibile Verrà un altro parente mi sa Ma è veramente incredibile Entrami senza testa ovviamente Ecco Con quegli occhi Guarda che mi sta ammariando Comunque ragazzi Oh Un altro Ragazzi sono diventati potentissimi ora Perché ci hanno dato due grani di rosario Quindi siamo a quota quattro Ah tra l'altro trofeo Scimmia guardiana Bello Ninjutsu di concessione Questa la leggo io Va Un altro trofeo Applausi Madonna Tutte le tecniche ninjutsu Allora una tecnica di ninjutsu che avvolge una spada nel sangue della vittima Estendendo la portata dell'arma Figata Consuma emblemi spiritici con l'uso Si attiva dopo un colpo mortale alle spalle Quindi cosa significa Che una volta che faremo un'esecuzione Potenzieremo la gittata dell'arma Quindi probabilmente allungheremo l'arma E quindi io adesso senz'altro l'equipaggio Perché l'idea di fare il fumo col sangue Oppure fare un nemico burattino Non mi aggrada abbastanza Preferisco sinceramente potenziare l'arma Beh